Oggi, cioè il 29 novembre, ricorre la giornata mondiale del giaguaro. E mai come oggi è indispensabile per far notare che è il più grande felino delle Americhe, nonché è una delle specie più emblematiche dell'Amazzonia, è seriamente minacciato nella sua sopravvivenza. Salviamo i giaguari dall'Amazzonia e diamo una donazione al WWF.